Non è da molto tempo che mi posso permettere di comprare degli orologi e quindi è un indivenire, quindi sto imparando qualche cosina in più, so pochi termini tecnici, mi baso su quello che mi emoziona, credo che è lo stesso discorso che ogni tanto mi capita di fare con l'arte o con altre piccole manie di collezionismo, è la cosa che ti crea un'emozione, quella giusta. E poi c'è sempre tempo per imparare, oltretutto a te piace leggere, noi facciamo dei libri che sono molto importanti a livello istruzione sul tema orologi, quindi quando vuoi sai dove trovarmi.